Le elezioni amministrative a Como sono giorni di tensione per la lista civica insieme per l'Andrescina che 5 anni fa ha sostenuto l'attuale primo cittadino. Nessuna dichiarazione ufficiale su una possibile corsa in solitaria della lista, alleanze esclusa al momento e su una ricandidatura del sindaco uscente che al momento però sembra poco probabile. Occhi puntati invece sull'assessore alla sicurezza, personale e protezione civile Elena Negretti, figura di spicco della giunta all'Andrescina, presidente della civica insieme e fedelissima del sindaco. L'assessore nei 5 anni di mandato è riuscita a raccogliere un ampio consenso da parte dell'opinione pubblica e proprio la fetta di elettorato a favore di Negretti avrebbe attirato le attenzioni dei partiti di centrodestra che sostengono il candidato sindaco Giordano Molteni. Lega e Fratelli d'Italia da giorni premono affinché l'assessore possa entrare nelle loro fila. Un passo che metterebbe la parola fine all'esperienza civica, una scelta difficile per la diretta interessata. Entrare in Fratelli d'Italia, partito che bocciò il bis dell'attuale sindaco, segnerebbe di fatto una frattura nei rapporti con l'Andrescina, al quale è legata dall'esperienza amministrativa e da una lunga collaborazione. Dall'altra sembrerebbe dunque più naturale un passaggio nelle fila della Lega. Il partito di Salvini, al contrario degli alleati, ha sempre sostenuto la ricanditatura a sindaco di l'Andrescina. Una scelta meno difficile almeno emotivamente, tenendo conto anche dell'amicizia tra Negretti e l'attuale assessore regionale leghista Alessandra Locatelli.